Sei ancora indeciso? Vieni in negozio, siamo a tua disposizione! Ti aspettiamo presso il tuo Fastweb Store? In Corso Mazzini 58, Cava dei Tirreni! Adesso è vera crisi, certificata dal secondo K.O. interno consecutivo. Sui resti della nocerina passeggia il Matera, vittorioso con merito, in modo più semplice del previsto. Senza gioco, senza idee, senza carattere, i rossoneri sprofondano in piena zona play-out. La sconfitta, resa ancora più delicata dal comportamento di Magri, che non ha accettato la sostituzione, e dalle parole del post-gara di Favasuli e Garaufalo. Entrambi, neanche velatamente, hanno posto l'indice contro la non presenza assidua della società e contro alcuni calciatori non in grado di leggere la pressione del San Francesco. Di sicuro c'è bisogno di una sterzata e non sono escluse novità nelle prossime ore. Ma passiamo alla gara, ti aspetti la nocerina, si presenta il Matera, la partenza al Razzo dei Lucani, che al settimo con Bottalico passano in vantaggio grazie anche alla disattenzione della retroguardia Molossa. La nocerina accusa il colpo e non riesce a reagire, nonostante la trazione anteriore. Il Matera patrone del centrocampo e della gara trova, con il colpo di testa di Piccioni, con il meritato raddoppio. Nella ripresa, prodezza balistica di Russo per il 3-0. L'autorete di Vicente fisse il punteggio sul definitivo 3-1, al fischio finale forte contestazione nei confronti di squadre e società.